Mi sembra sicuramente un risultato per il momento deludente che non mi aspettavo, che non ci aspettavamo e quindi accettiamo ovviamente quello che è l'esito del voto dei cittadini che è sovrano, ma non ritengo che, non immaginavo si potesse arrivare a un risultato così netto davanti a una situazione di terra o quella che è sotto gli occhi di tutti. La posizione non potrà che essere dura sui contenuti perché Teramo deve cambiare marcio, Teramo deve uscire dal declino, deve avere il cambiamento, non ci siamo riusciti ad affermarlo noi e questa cosa veramente mi sorprende, è la dice lunga forse della situazione in cui versa questa città, però i cittadini di Teca vanno rispettati, l'opposizione sarà dura, seria, di stimolo perché noi amiamo Teramo e vogliamo che Teramo torni a avere il ruolo che le compete. È un risultato straordinario, un mese e mezzo fa ancora ci davano il 3-4% e quindi per noi in completa autonomia è un risultato straordinario. La mia sarà una posizione diversa rispetto a quella che ho fatto finora, sarà una posizione molto più propositiva e alcune proposte della campagna elettorale le riporterò in consiglio comunale sperando che il sindaco le possa prendere in considerazione. Mi interessa che alcuni punti in particolare vengano approvati e vengano portati avanti. Il vero sconfitto di questa campagna elettorale è il centro-destra della mano che ha dimostrato di essere diviso in tante anime, di non riuscirsi a compattare neppure su una proposta politica e ha dimostrato di essere fragilissimo. E quindi loro dovrebbero fare una riflessione dall'interno, dovrebbero fare una riflessione anche tra di loro perché dai dati è innegabile che qualche partito centro-destra ha tradito il candidato sindaco.